Ciao a tutti, qui Lassio e vabbè bla bla bla, ok ci siamo, siamo di nuovo sul videopull Voi avrete visto, non so se ieri o un paio di giorni fa, il videopull sul JAP di 250 milioni su Dock, ok Avete visto la merda che ho trovato, a parte per Golden e Vegeta, e vabbè, ci siamo tutti, ok Adesso, ho un leggermente un pochettino più storico rispetto al JAP Spero di trovare almeno un paio di PG Banner, non ne chiedo chissà quanti, almeno un paio Giusto per capire se il gioco ce l'ha con me, oppure mi vuole tanto bene Per oggi faremo soltanto i giri scontati e poi nei prossimi giorni vedrete il videopull definitivo dove pullerò tutto Ora, per adesso, giusto i giri scontati Direi di iniziare da... Allora, a me cosa serve da sta patch Goku 3 Steel, non ce l'ho Gogeta Int per la B Ehm, il nuovo Goku, e vabbè, il nuovo Goku, non ce l'ha nessuno Goku fisico è nuovo, ok, nessuno ce l'ha, ok Ehm, Nasa che è il Vigito blu, non ce l'ho Sembra che vorresti dare L'abbiamo iniziato benissimo Ma proprio benissimo Perfetto, solo SSR garantito Ragazzi, ma questo è un inizio Cioè, benissimo Cioè, adesso poi troviamo pure il PG della Madonna alla fine Madonna, il Goku Che io ho full ability Ragazzi, questo è un inizio spettacolare Spettacolare Speriamo di trovare qualcosa La prima multi è, lo sappiamo, per i principianti Che lo sarà Uno Due Due e mezzo, no Vabbè Trunks Chichi Chiaotsu 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 Gogo Goten Pan Bulma Nail Goten Bellissimo Step 3 Step 3 Ah Uno Due Tre God Madonna Ma perché mi spanno dei messaggi su Whatsapp Non c'è la misera Ah, il nuovo Goku fisico Perlomeno un PG banner Beh, ci posso Strunks Vabbè Proverete il PG banner Ah, almeno Goten Oh, madonna, sano Perché mi mi Non avete messaggi su Whatsapp Top Basti Tengo full ability, troppo Facciamo La scompata Cioè, la scompata La gratuita Almeno il nuovo Goku Perlomeno un PG banner Dai Ci sta Questa non ci starà sicuro Superstar Uno Due Due e mezzo No, come si passa al treno Che schifo Manco a dire Mi serve per la road Io già l'ho fatta La road Già Non mi volere male Non volere male Per favore Porco Primo giro È andato Di merda Ma va bene così Andiamo su Freezer Yeah Viva Freezer Freezer Occhiolino Eh, sto venendo l'occhiolino Eh, eh Dai Come si fa 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 Due Due e mezzo Bravo Tre Tre e mezzo No God Niente Sorbetto Limone Capitano Ciglio Bu 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 Già Questa Mi sa che è una Shaftata di Ultima Proprio di quelle Merdose Masch Posso dire una cosa Di questo Piggio di merda Non ce l'avevo Ma almeno adesso Da collezione ce l'ho Non ce l'avevo Ok, va bene Perché secondo me Queste baci Mi faranno penare L'inferno Per trovare qualcosa Di decente Uno Due Due Ah SSR è soltanto garantito Secondo me Questo è proprio Da schifo Frost C16 Frost Tradice Frost Ma sempre gli stessi Sero Me le cambiate Sto facendo Ma che schifo è Che schifo è Perché lui Perché tu esisti Perché Perché esisti Perché vi devi spiegare Perché Vegetta Vegetta Sì Vegetto Animation PG banner Dammi nel più di uno Gioco Capiscimi Più di uno Frise Frise Prima forma Cura Cura Ability 3 Zamasu Int Ability 1 Carina Senza Di una foglia Dottor Gero Tagono Cura Goku Hit Madonna Che schifo Madonna Ah Cura Ability 3 Così L'extreme Fisico Che ho Una bestia Sovrumana C'è Omega Ability Full Lo E Ticket Oh Vegetta Ah Ci ho sperato Due di fila Volevo Volevo Doppie Leggita Oh Sperse Andre In the God God Mi sarebbe Tanto Piaciuto C 17 L'altro Fight Questo Babidi Bibidi Body Dibu 18 Friage Un altro Friage 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 E poi Portano Poi Portano No Portano Alla Merda Portano Alla Merda Perché Sono Tentato Di Fare Altri 3 Multi Non so Il video Quando Si Avivano Fatemi Vedere Non mi Fa Vedere Questa Applizzazione Di Merda Vabbè Continuiamo Continuiamo A bestimare In compagnia Dai 4 PG duecento. Uno, due, tre, oh god, nemmeno non si è vista proprio, ma il logo, ma ve lo capite, forse Super Saiyan 3 e solo tutti pg fuori banner, cioè perché a me fino a modo Super Saiyan 3 ha dato solo pg fuori banner, da come ricordo. C'è la porta da Billy Full tra poco, no, c'è lo script dietro, sì sì, c'è lo script dietro, per forza, ma non può essere che non ho trovato manco mezzo pg banner, c'è solo da, madò, che schifo, cioè quando ho trovato solo Kuro e Goku come pg banner, cioè a meno che Mei non è banner, cioè non saprei. Per più, Ciozzi, Borbos, Piccol, Tien, Giago, quest'uno proprio, Trunks, Goku, Panfisica, ti tengo ad abiti di full. Facciamo questo, l'ascondato e poi termi. Che schifo, madonna. Veramente mi sta salendo il nazismo. Io speravo di trovare, a meno un abiti per qualcuno, niente proprio, nemmeno il pg tra poco. Cioè su qualsiasi dove si ferma, no, questo non è scriptato all'orario, devo smettere. Benzete, madonna, cosa è uscito, un pg di cento anni fa, tra poco. Gioco a trovarmi proprio, il pg banner mi dai, ma non quello giusto. Goku, madonna, che schifo. Facciamo l'ultimo e basta. Sì, mi ha dato il Goku fisico, ma è quello pezzotto. Io non voglio quel Goku, base. Vg, dammi una soddisfazione tu, che ti posso dire? Almeno il 3, no, il 3 no, non me lo... Bravo, fermati a 1. Quando si esce un crack del screen? Schifo proprio, ssr garantito soltanto. Vigito te, cabbili di due lo porto, eh? Picco, madonna, che schifo! Vabbè, ragazzi, basta, basta. Spero che il video vi sia più... A me non è piaciuto, per in grado, sto video di un merco. Meramente. È uscito proprio una schifezza, non è uscito niente. Vabbè, noi ci vediamo al continuo di questo video pool. Speriamo che troveremo qualcosa. Ciao, ciao! Ciao, ciao!